Attenzione alta alla variante inglese del Covid-19. Una variante di elevata contagiosità che ha fatto Capolino nelle Marche e soprattutto nelle scuole. Sei casi già accertati a Tolentino, Pollenze e Castelfidardo che vanno a violare la tranquillità delle province di Ancone e Macerata. Dopo una riunione urgente convocata ieri fra l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, i dirigenti dell'Asur e gli amministratori dei comuni coinvolti si è deciso di predisporre in didattica a distanza gli studenti di tre scuole di Tolentino sotto osservazione. Oggi sono stati predisposti anche tamponi molecolari a tutti gli allunni coinvolti. Screening attraverso un gazebo adibito a drive test che continuerà anche domani. Attualmente non c'è nessun caso accertato nella provincia di Pesaro così come in quelle di Fermo e Ascoli Piceno. L'Asur però estrarrà dei tamponi per la verifica dell'eventuale contaminazione del caso inglese anche dalle persone testate nelle aree vaste 1, 3 e 5. Ad oggi credo che il monitoraggio, la possibilità di fare tamponi e cercare di andare a individuare, isolare sia lo strumento più importante. In questo momento non si pensa ad un'iniziativa più impattante rispetto a questa questione della variante inglese. Chiaro è che nelle prossime ore, nelle prossime giornate dovremo vedere l'andamento. Se l'andamento dovesse essere un andamento molto importante allora si potrebbe pensare anche ad intervenire in maniera diversa e magari a cercare di circoscrivere con degli strumenti di tipo diverso l'espansione di questo contagio della variante inglese. Non parliamo né di zona rossa né di zona arancione, parliamo di quegli strumenti che dovessero essere messi in campo e che potrebbero essere tenuti importanti per cercare di arginare un eventuale contagio che si va a diffusione del contagio. Però questa è un'ipotesi che ancora io vorrei tenere remota perché speriamo che i numeri restino bassi. Oggi abbiamo un numero molto basso anche di contagi in linea generale, sia sintomatici che asintomatici. Questa mattina negli ospedali non c'era, a differenza degli altri lunedì, non c'era un calca e affollamento, quindi è un elemento positivo. Restiamo in allerta, restiamo in allarme, però ancora non c'è una situazione che sta presupponendo un impatto così importante da doverci far scegliere di fare una zona rossa. Se nelle prossime ore, però questo va detto, la situazione dovesse evolvere in maniera pesante e per evitare di far precipitare intere province o l'intera regione in una situazione spiacevole, potremo valutare alcuni provvedimenti ulteriori, ma in questo momento credo che la situazione possa essere ritenuta sotto controllo.